Ed eccoci ritornati a mattina live direttamente da Sanremo con Povia che intanto strimpella con la sua chitarra. Allora che cosa ci fa ascoltare? Allora facciamo ascoltare un pezzo della verità e un pezzo dei bambini fanno o solo i bambini fanno o? Decidi tu. Un pezzo della verità e un pezzo dei bambini fanno. Va bene. Ma canto così il microfono o l'appoggio? Me lo tieni tu? No, 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 ma si sente, si sente. Siamo sicuri? Allora vado. Lo tieni tu. Un pezzo dei bambini fanno o? No, no, ma si sente. Sì. 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 Magari litigano un po', a proposito, ma col dittino ad alta voce, almeno loro fanno la pace, così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove. I bambini fanno oh, guarda la pioggia, quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo veni però, però, e mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli, nessuna pancia, nessuna lingua. Bravissimo! Grazie, povera! Il bello di avere un successo, ne ho di più, però facciamo finta che ne abbia uno. Assolutamente, grazie mille veramente per essere stati stamattina in nostra compagnia, mattina live diretta da Sanremo, e noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break, rimanete con noi.